ciao ragazzi e ciao ragazze benvenuti a un nuovo video guardate qui in cucina frigitrice ad aria con la frigitrice ad aria le ricette e guardate qui cos'è arrivato oggi ebbene si è arrivata lei la frigitrice ad aria di benedetta rossi dovrebbe essere bianca e qui ci sono tutte le varie illustrazioni dei piatti che ci sono ci possono fare con la frigitrice e intanto apriamo qua proviamo ad aprire mamma mia è piena è tutta ben imballata è imballatissima eccola qui le istruzioni dopo le studio eccola wow qua è tutta la cosa da togliere adesso la tolgo dalla dalla confezione eccola lo spacchettata tutta bella adesso tutta bella pulita e l'accendiamo e eccola qua è accesa no forse bisogna fare così per accendere eccola eccola qua guardate che bella sta fermo che ti spezzo e adesso è partita dobbiamo studiarla ma che partita sì la partita lì c'è tutte le cose dobbiamo studiare e adesso scaldiamo forno ma che scaldiamo ma che scaldiamo dai bruno via la mela poi penso che per spegnere si fa così che bella ecco adesso la spinta è tutta spenta noi si vede al riflesso ciao oddio la televisione no e niente il video finito se vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al mio canale attivate la campanella e ciao ciao